26 giugno, siamo in piazza Campidoglio, una manifestazione in sostegno del sindaco Marino, incontriamo la consigliera del settimo municidio, consigliera PD Cinzia Lancia. I motivi di questa partecipazione, la necessità, l'importanza oggi di stare qui e a sostenere questo sindaco. Io penso che questo sindaco sia riuscito a tagliare il bubone di una burocrazia putrefatta e di una politica estremamente corrotta. Per guarire un sistema malato ci vuole tempo, bisogna darglielo ed è soprattutto il suo partito che dovrebbe difenderlo. Ma questo partito lei lo sente unito intorno al sindaco o c'è qualche ombra di distingo o di timidezza nel sostenerlo? Ci sono state delle dichiarazioni certo non a favore del sindaco, che hanno lasciato un po' il sindaco da solo, però noi cittadini e noi del PD che vogliamo pulire questa città da tanta mafia, ma anche da tanta corruzione che non ha niente a che fare con la mafia, siamo sicuramente con lui. Il comportamento di Renzi come lo valuta? Un po' ondivago e soprattutto penso che il segretario di un partito debba difendere un suo sindaco, soprattutto quando è il sindaco della capitale. Grazie.